gentili telespettatori buona giornata ormai siamo abituati che ogni giorno continuiamo a sentire queste storie sul reddito di cittadinanza chiamarli furbetti truffatori del reddito di cittadinanza sono migliaia si può ipotizzare come siano decine decine di migliaia se non di più con numeri ancora più grossi pensate che una signora di bologna viveva ai caraibi è tornata in italia dice ma come sono fanno tutti i furbetti del reddito furbetti tutti truffano lo stato con il reddito ma aspetta che vada anch'io no sono ai caraibi torno in italia visto che qui non sono iscritta all'aere nessuno sa che sono qui torno in italia faccio tutte le procedure per il reddito non ho niente importo massimo e poi se ne torna ai caraibi e in qualche modo ritira questi soldi che gli vengono depositati gaspiterina ma chissà quanti fanno una cosa fanno una cosa del genere scandalo che imbarazza il movimento 5 stelle ma il movimento 5 stelle non gliene frega niente non gliene frega niente si allunga la lista dei furbetti che percepiscono il reddito e così le forze dell'ordine devono fare letteralmente le capriole per andare a beccare tutti quelli che riescono a truffare lo stato proprio perché questo reddito di cittadinanza è stato fatto in un modo totalmente ridicolo superficiale bambinesco da degli inesperti al governo che realmente lascia lascia sbalorditi e attenzione che questo reddito chi l'ha fatto giuseppe conte di maio con i 5 stelle salvini con la lega e dico io un avvocato e due partiti non sono riusciti a fare una roba sufficientemente accettabile perché se uno che vive ai caraibi può prendere il reddito di cittadinanza siamo proprio messi bene e così su questa cosa dell'arcipelago caraibico sono stati trovate otto persone ferite nel mirino degli agenti 171 controlli 8 persone quindi non è solo la signora bolognese ma ce n'erano altri 7 8 persone ai caraibi che si prendono si prendevano il reddito di cittadinanza beh sono state avviate le procedure per recuperare la somma voglio proprio vedere come recuperano la somma ovviamente queste persone che sono ai caraibi che hanno truffato e quando gli scadrà il passaporto non li fanno mica non glielo rifanno più il passaporto con un degli con una truffa del genere il passaporto non ve lo fanno più perché quando voi andate all'ambasciata per fare il passaporto l'ambasciata vi dice c'è una segnalazione della polstrada c'è una segnalazione di questo di quell'altro di equitalice ma devo chiedere vi dicono all'ambasciata devo chiedere all'autorizzazione alla questura tal dei tali per poter procedere a rilasciare il passaporto perché c'è un fermo al passaporto ovviamente con una truffa del genere con delle cifre così alte o questi italiani ai caraibi provvedono a restituire queste cifre ma penso che sarà anche impossibile perché ai caraibi queste cifre valgono per 10 volte loro i soldi se li saranno anche spesi tutti per comprarsi lì la casa per arredarla eccetera eccetera pensate che solo la signora solo la signora bolognese deve restituire complessivamente 33 mila e 84 euro soltanto nelle ultime settimane sono quasi 200 le persone denunciate solo nel bolognese dalle forze dell'ordine per aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza la somma complessiva delle 200 persone ammonta sfiora quasi 500 mila euro ma io mi ricordo che si era sempre detto che chi truffava lo stato proprio sul reddito di cittadinanza non andava in carcere da da fino a sei anni voi conoscete qual conoscete qualcuno che sia mai stato in carcere per il reddito di cittadinanza allora se non c'è la certezza della pena ma ci sono solo denunce 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 che faranno poi gli manderanno le cartelle di equitalia ai caraibi a queste persone che probabilmente con importi così alti visto che se li saranno già spesi probabilmente non torneranno più in italia saranno destinati a non poter più tornare in italia perché come vi dicevo non non ve lo fanno più il passaporto quando scade quindi o tornano indietro dai caraibi prima che gli scade il passaporto e poi stanno in italia e affronteranno il processo eccetera eccetera oppure se stanno lì quando gli scade il passaporto dimenticatevi di essere italiani perché avete non potete più rientrare sì si può rientrare se non ti fanno il passaporto puoi rientrare con un passaporto di emergenza è l'ambasciata vi fa un passaporto di emergenza e nel ventuno mi ero dimenticato che c'era anche questa possibilità non vi fanno il passaporto ma uno di emergenza per rientrare in italia sempre che ve lo facciano l'ennesima vergogna del reddito grillino che è quel voto di scambio ormai che sorregge conte grillo col suo canotto ve lo ricordate il canotto dei vaffa no ecco adesso non si sorregge più sugli attivisti si sorregge sul reddito di cittadinanza il canotto di di grillo no lui lui va col suo canotto soprattutto le tesserine gialle del reddito di cittadinanza visto che sono milioni ce n'è di tessere in italia beh insomma ma che visione di paese si può avere quando si chiede di abrogare una misura del genere dice conte stiamo parlando di pensionati di una platea di beneficiari che non ha di che mangiare e conte dice mio io trovo vigliacco e folle addirittura una roba da pazzi che con i politici con stipendi da privilegiati chiedono di eliminarlo ma va la va la conte te e il tuo voto di scambio se non ci fosse se non ci fosse l'accredito a milioni di persone del reddito di cittadinanza il movimento 5 stelle varrebbe come il partito di cambiamoli di coraggio italia zero virgola qualcosa ecco questa è la realtà care le mie belle facce allegre dei nostri politici io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale e siamo anche poi in facebook dove trovate condivisi dopo qualche ora i video che trovate qui e su tele italia è seconda rete perché c'è anche l'altro canale tele italia seconda rete dove ci sono video di politica ma non solo anche di altre di altre cose nuovamente grazie per avermi ascoltato e visto ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video ricordatevi che nella community trovate tanti sondaggi quali poter partecipare e commentare grazie a tutti arrivederci buona giornata grazie a tutti